Finalmente la tanta attesa di estate arriva e le nostre telecamere questa mattina non potevano mancare al Village Partenoper Restate con noi e non perdete questo servizio Sous-titrage Société Radio-Canada E torna in contatto Angelo, buongiorno Ciao, tutto bene, un saluto a tutti gli amici di contatto E allora cari amici, finalmente torniamo in questa fantastica struttura Village Partenoper totalmente rinnovata nei minimi particolari Sì, quest'anno abbiamo molte novità, abbiamo ristrutturato il ristorante con la pizzeria, un lounge bar, il Lido, anche la piscina Abbiamo fatto diverse cose, si devono venire solo a trovare Dovete solamente venire qua E allora Angelo parliamo delle promozioni del Lido e della piscina per tutti coloro che vorranno venire qui a trovarci Sì, la promozione della piscina è la solita Da lunedì al sabato 5 euro ingresso con lettino Sul Lido invece facciamo lunedì e venerdì ingresso con lettino sempre 3 euro Un supplemento di un solo euro per il sabato e la domenica, quindi 4 euro sul Lido Perfetto, io so però che voi organizzate anche tante tante sorprese per i vostri clienti Sì, il mese di luglio ed agosto, quest'anno ho inventato una rassegna musica ridere, prima edizione In effetto è una fusione tra cantanti e cabarettisti Ogni sabato alle 15 sul palco qui delle piscine si esibisce un cantante e un cabarettista Quest'anno abbiamo una vasta programmazione con ragazzi di Made in Sud Poi i cantanti li ricordano a memoria, quelli di Made in Sud non li ricordano C'è Tommy Riccio, Ciro Rigione, Francesco Merola e Gianni Fiorellino Dovete solamente guardare i nostri servizi perché poi a breve diciamo tutte le date E allora cari amici dovete assolutamente venire qua Per quali motivi? Diamo 3 validi motivi alle persone che ci guardano da casa Ma 3 validi motivi, qualità, servizi e prezzi modici, prezzi anticrisi Ecco, il posto giusto per famiglie, comitive, giovani, bambini, per tutti Sì, sì, siamo aperti a tutti, un posto tranquillo e può venire chiunque Molto piacevole ma soprattutto un posto anticrisi perché i prezzi sono veramente Sono prezzi anticrisi, combattiamo la crisi Allora cari amici noi vi invitiamo a venire qui, Village Partenope, Barca Turo, un infoline 0815092444 e www.campingpartenope.com Angelo però dobbiamo anche dire che questa fantastica struttura si presta per delle serate molto molto particolari Sì, noi diciamo che fettiamo anche la struttura per eventi serali che possono essere festeggiamenti di compleanno, feste di lauree Semplici feste per i ragazzi che vogliono venire qui perché la struttura è fantastica, lo permette C'è la possibilità di stare in piscina sul Lido? Sì, fanno il bagno in piscina anche serale, una location bellissima di sera Allora cari amici venite qui perché anche gli eventi serali sono impeccabili E allora Angelo salutiamo tutti gli amici di contatto, vai Ciao, un saluto a tutti gli amici di contatto, vi aspettiamo Ciao Cari amici di contatto vi presento Nazareno il designer del Village Camping Partenope Come va? Tutto a posto, siamo qui ancora lavorando e provando a ringiovanire, a dargli uno styling un po' diverso al camping partenope Perché dietro di noi c'è una cosa molto molto bella, mi sembra di aver cambiato struttura ma in realtà siamo ancora qui al Village Partenope Sì sì, ex camping Partenope Ex camping Partenope, Village Partenope Grazie a Nazareno piscina rinnovata, un ristorante fantastico con una mini piscina con il Buddha Dietro di noi bambù, tutto molto più bello, tutto molto più rinnovato, fantastico Certo, stiamo provando un po' diciamo a fare un restyling al camping partenope, modificando pure il nome in Village Partenope Diciamo in due anni provare a rinnovare tutto quanto Allora cari amici veniteci a trovare qui al Restamo in? Contatto E ancora all'interno del Village Partenope la vera novità è Romolo Buongiorno Ciao Antonella, ciao buongiorno Direttore di sala del ristorante? Ristorante pizzeria Partenope, è una nuova sfida che abbiamo creato, un ristorante nuovo tutto all'avanguardia Grande chef, grandissimo pizzaiolo, tutte cose di prima scelta, prima qualità Io ho intravisto sul bancone del bar il menù, menù pesce, menù carne, pizzeria, salto in bocca, c'è di tutto? C'è di tutto, con dei menù fissi, di 25 euro per il menù pesce, 20 euro per il menù terra, tutto completo partendo dagli antipasti, due assaggi di prima, due assaggi di secondo, frutta dolce, tutto compreso È una vastissima spicciolata, pesce freschissimo, ogni giorno arrivano a consegnarci tutto ciò che è di meglio Non ci facciamo mancare assolutamente nulla Sicuramente ti sta venendo un po' di acquolina, dopo ti faccio assaggiare una cosa Anche perché ho visto che è passato un tuo collaboratore, che cosa aveva in quelle teglie? Mmm, delle cose fantastiche che ha fatto il nostro pizzaiolo Un odore Spuzzichine, crocchè, tutti fatti da noi, panini, viussele e patatine, pizze, margherite, capricciose, tutto quello che volete Veniteci a trovare, perché in questo posto si sta veramente bene e si mangia da favola Io tra un pochettino provo, perché a questo punto l'odore è invitante, il ristorante è bellissimo, quindi provo Il ristorante e pizzeria Partenope all'interno del villaggio Partenope non è aperto solamente a coloro i quali si trovano qui, ma anche alle persone che vogliono venire dall'esterno Esatto, a parte dei nostri campeggiatori, i nostri clienti del campeggio è aperto al pubblico, quindi veniteci a trovare Ci troviamo a Varcaturo, località fantastica, pranzo e cena sempre aperti a vostra completa disposizione E allora invitiamo tutte le persone che ci guardano da casa a raggiungerci qui al villaggio Partenope Allora, tutti coloro che ci ascoltano, venite a trovarci al ristorante e pizzeria Partenope E vi farò mangiare benissimo, ottimo trattamento e servizio alla grande E allora cari amici, venite qui, Romolo, metti il dito vicino al mio, 321, contatto Cari amici, non è un pizzaiolo, è un artista, guardate che cosa ha creato Salve a tutti, grazie Come hai fatto? Questi sono segreti professionali, non posso svelare a tutti i miei segreti Però comunque con tanta passione e tanto impegno si riesce ad ottenere questi risultati Mentre un po' la assaggiamo perché mi sembra giusto Sì, 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 anche perché l'ho promesso a tutti voi di farla assaggiare E lo prometto anche a voi che sicuramente sarete i nostri clienti Venite qui perché Antonio vi delizierà con le pizze E poi facciamo pizze acrobatiche, pizze singole, vari gusti Sono tutte un po' tutte specialità perché sono fatte con passione Venite qui ad assaggiare le nostre pizze e non ve ne pentierete Un saluto a tutti gli amici di Contatto Contatto! Cari amici di Contatto, anche Tommy Riccio sceglie il Village Partenope Buongiorno! Ciao, buongiorno Antonella! Come va? Tutto bene, alla grande, l'estate porta già allegria insomma Tommy, in anteprima per tutti gli amici di Contatto Tu farai un concerto in questa struttura, su questo palco, ricordiamo la data? Sì, sì, io sto il 10 agosto dalle ore 15 in poi In concerto qua sulla piscina con questo palco qua Bellissimo! Bellissimo Ho avuto modo di esibirmi Io vorrei mandare un super saldone a tutto lo staff del camping Partenope Che quest'anno ha avuto delle grosse modifiche Un progetto tutto nuovo come ristorazione, bar, caffetteria, insomma Cambi di calcetto, cambi di calcio Non si fanno mancare assolutamente niente Supermercato, sala giochi Poi ci sei tu, lo dobbiamo dire, ci sei tu E poi ci sto io e che vi aspetto a tutti quanti ovviamente E allora Tommy, un tuo particolare saluto a tutte le persone che ci seguono da casa, vai Un bacione forte e seguite Contatto Television Contatto, contatto! All right!